Noi stiamo realizzando un carro di seconda categoria, ha come protagonista principale della costruzione il cuoco caravarciolo. Abbiamo immaginato una tavola apparecchiata, la Cucina Italia, per i politici che un po' alle nostre spalle fra virgolette stanno mangiando pensioni d'oro e vitalizi. Io sono contentissima di aver avuto questa opportunità di rimettermi in gioco in un'altra modalità. La collaborazione con Andrea è molto positiva, sorride sempre un po' come fa, cioè lui entra la mattina sorride e va via la sera, stanco morto, sorride. Stiamo facendo una collaborazione, è il primo anno che collaboriamo io e lei, il carro te lo devi sentire, ti devi anche imporre, perché il carro delle volte ti può anche timorire, invece vedo che le cose stanno continuando molto bene, si stanno anche valutando. Ci auguriamo di fare veramente il meglio per questo carnevale. E fare divertire le persone.